Salve e benvenuti a questo sesto episodio di Resident Evil 4 Mi sono piaciuti i vostri precedenti commenti e continuiamo questa avventura Non mi interessa Anche perché non muori? Che portoglio Allì sta! Allora! 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 Grazie. 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 Non mi piace. Grazie. Troppo deserto. Ma io non posso aprire la porta in qualunque caso. Ecco lo spirello. Guarda. Andiamo dietro. Allora secondo la mappa. Dovevo potete guire. Presto il lago. Allora. E' troppo tranquillo. 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 Ah, f**k. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.